La rissa si sarebbe scatenata nella giornata di ieri vicino ad una taverna che si trova tra via Monte Pellegrino e via Montalvo a Palermo. Il movente è ancora da chiarire. Qualche ora dopo l'episodio di violenza il marciapiede era già stato ripulito da ogni traccia di sangue per depistare gli investigatori. L'uomo gravemente ferito e un 34enne sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia da un familiare che lo avrebbe caricato in auto subito dopo l'aggressione. Ai medici che lo hanno soccorso durante il triage è stato detto però che era rimasto vittima di un incidente stradale per evitare che i sanitari avvisassero le forze dell'ordine. Il ferito è adesso ricoverato al trauma center con il volto completamente tumefatto, un profondo taglio alla testa e altre ferite. Dopo essere stato intubato dai medici del nosocomio palermitano e stato sedato, la prognosi è riservata. Secondo alcune testimonianze il 34enne avrebbe litigato con un coetaneo e i due si sarebbero dati colpi di bottiglia. Pare che qualcuno avesse anche una grossa mazza. Sull'episodio indagano gli investigatori.